In attesa di contattarlo personalmente dopo l'amichevole che trasmetteremo domani in diretta a partire dalle ore 17, ci piace sottolineare quanto detto da mister Nicola subito dopo la stesura del calendario. L'inizio di questo campionato è sicuramente impegnativo perché nelle prime giornate affronteremo in casa due squadre blasonate come Milan e Inter. E' una neopromossa il Verona che avrà ancora l'entusiasmo del finale della scorsa stagione e il desiderio di ben figurare nella nuova categoria. Con i casi invece faremo visita alla Cagliari che è una buonissima squadra. Giocare le prime due gare in casa rappresenta sicuramente dal punto di vista motivazionale e ambientale uno stimolo in più per far bene perché siamo davanti al nostro pubblico ma sarà il campionato stesso a dirci quale valore avrà il calendario perché al momento nessuno può dire che vi sia una squadra più semplice o più difficile da affrontare. Eccezione fatta per i top club. Non esistono partite abbordabili, anzi magari proprio quelle gare possono diventare molto difficili. L'importante è continuare a lavorare come stiamo facendo in ritiro per arrivare pronti già al primo impegno ufficiale del 12 agosto in Team Cup. Nel volerci augurare nonostante le difficoltà delle prime uscite, visto che avremo a che fare con due delle formazioni più titolate, il Milan la prima e l'Inter la quarta, una partenza migliore rispetto alla passata stagione, ci preme sottolineare che quanto assedito da Nicola in merito al sorteggio del calendario è sostanzialmente un'opinione comuni a tutti. Sarebbe assurdo pensarla diversamente. Ogni formazione nell'arco di un torneo avrà modo di attraversare periodi buoni e periodi meno buoni o anche difficili e la differenza negli scontri il più delle volte lo fa lo stato emotivo legato al raggiungimento o meno dei traguardi prefissati. Certo incontrare un Milan e questo Milan super rinnovato all'esordio non è assolutamente facile. E' lo stesso dicasi dell'Inter. È vero che bisogna cercare di far punti importanti con le formazioni alla nostra portata, ma è anche vero, come del resto rimarca Nicola, che ogni partita è una storia a sé e che soprattutto all'inizio, quando nulla è ancora definito, non sarà facile con nessuno. Anche all'inizio del torneo della passata stagione Nicola ha asserito che i punti in gioco sostanzialmente hanno la stessa importanza indipendentemente dall'avversario. Battere il Milan vale sempre tre punti così come contro il Benevento. Il tanto decantato valore doppio di alcuni punti lo si può ipotizzare solo quando si accontezza della classifica e questo magari lo si può decifrare dopo un bel po' dall'inizio del torneo. L'anno scorso fu nelle prime gare e dopo il capitombolo di Pescara contro l'Atalanta che capimmo che i bergamaschi erano proiettati su altri fronti. Al momento della gara eravamo convinti di aver di fronte un avversario alla stessa nostra stregua. Poi sappiamo tutti come andò a finire. Ora come ora nessuno si aspetta i sanniti in cima alla classifica e tantomeno ci auguriamo di percorrere il calvario dell'anno scorso. Per quanto ci riguarda ci attendiamo una partenza diversa. Se poi sei punti riusciamo a farli con il Milan e con l'Inter piuttosto che con il Verona o il Cagliari, tanto di guadagnato. L'importante è raggiungere il prima possibile la meta della salvezza. Del resto nessuno entra in campo già perdente e ogni sfida ha il suo fascino visto che a giocarla siamo nella massima competizione. Giusto per rincuorarci, qualora il calendario lo reputassimo con un inizio difficile, nel volerlo analizzare e raffrontandolo a quello della passata stagione basta invertirlo. Se avessimo dovuto incontrare il Milan-Linter a Pescara quante emozioni avremmo perso, magari avremmo anche vinto entrambe le sfide. Però crediamo, visto l'apoteosi della salvezza raggiunta in Extremis, che tutto sommato è andato meglio di ogni più rosi a previsione. Godiamoci questa avventura con la A maiuscola ai due estremi. Il calcio è bello perché il pallone è rotondo e tutto può succedere. Una grande prova d'affetto è quello che la gente mi dà sempre qua a Crotone. Io sono onorato di essere qui ormai da 3-4 anni e speriamo di poter gioire ancora tante volte insieme. Quello che è stato fatto in passato ormai è andato e bisogna guardare avanti. Noi abbiamo la nostra identità, nel senso sappiamo come dobbiamo costruire il nostro percorso per arrivare alla salvezza. Lo faremo attraverso il gruppo, attraverso il lavoro, attraverso l'impegno, attraverso il sacrificio, come abbiamo sempre fatto gli anni scorsi. Non dobbiamo ragionare da singolo ma pensare sempre a quello che è l'obiettivo comune di tutta la città. Non è solo della squadra perché Crotone ci tiene a rimanere in Serie A e noi vogliamo regalare la Serie A per un altro anno a Crotone. Quindi lavoriamo in questa ottica. Ripeto, quello che è stato è stato. Adesso dobbiamo ripartire, ricostruire e farci trovare pronti per l'inizio del campionato. A me fa piacere incontrare il Milan perché è sempre un piacere giocare contro queste squadre. Spero che ci siano grandi stimoli da parte nostra e da parte di tutta la città. Partire con grande entusiasmo per noi è fondamentale. E poi comunque sia prima o dopo le dobbiamo incontrare tutte. Però va bene così. Siamo partiti con cariche abbastanza elevate, quindi siamo ancora tutti un po' imballati, però fa parte del gioco. Non essere brillanti adesso, cerchiamo di lavorare per esserlo l'inizio del campionato per la Coppa Italia.